Io sono Gian Antonio Favalesa e ho lavorato per l'Ital Control Meters, una compagnia vicino a Milano. È un tempo molto lungo. Io credo che abbiamo incontrato per la prima volta più di 20 anni. Io credo 22 anni. Favalesa è un prodotto perfetto per la ricerca e la sviluppazione di ricerca e l'instrumentazione alta. È perfetto per il nostro lavoro in Italia. Noi normalmente troviamo la migliore tecnologie e prendiamo questa tecnologie per l'Italiano. E Favalesa, in questi 20 anni, ha fatto un ottimo lavoro con noi.